VLOGOS WEB RADIO Alcuni dei ragazzi del SAP in collaborazione con VLOGOS di Casalecchia hanno realizzato un'intervista con l'Ironic Circus Gruppo Musicale Giovanile di Ponte Ronca. Come avete scelto il vostro nome e la vostra band di quanti componenti è fatta? Diciamo che la scelta del nome è stata una cosa difficile, è stata la più difficile. Innanzitutto suona bene, quindi è aromatopeico. Ironic Circus letteralmente tradotto significherebbe circo ironico, che non è comico, è ironico. Quindi lancia quel velo di nostalgia dietro che un po' accompagna anche il nostro percorso musicale, se così si può dire. La nostalgia positiva. Siamo in cinque, abbiamo due chitarre, un basso, una batteria e la voce. Potete anche dire i nomi dei componenti. Allora, alla voce Oma, al basso Aldro, alla batteria Loren e alle chitarre Andrea Andrea. Detti panno e degli, diciamo i nomi d'arte, sono più conosciuti. Sento un forte ricetto e nessuna pietà, non esiste... Com'è nato il vostro gruppo? Questa è la domanda. È nato un po' per gioco, come tutte le cose più belle, no? Secondo me. Sì. Perché diciamo, bene, innanzitutto c'è anche una grande passione di base, a livello di ascolto, di approccio alla musica, di ricerca, di musica sempre diversa, da ascoltare. Però è nato per gioco in casa, in una casa in affitto, tra me e Panno, il chitarrista e Aldro, il bassista. Abbiamo iniziato a vedere che potremmo divertirci con la musica, potevamo comunicare con la musica e quindi, dopo di che abbiamo conosciuto anche Andrea Degli e Lorenz, il batterista. Prima Lorenz, prima Lorenz, poi Andrea. All'inizio, essendoci solamente io e Aldro e Panno, ci mancava ancora la batteria. Dopodiché il figlio dell'idraulico di Panno era batterista. L'abbiamo trovato, era molto bravo. E dopodiché lui ha portato dentro la seconda chitarra, che è Degli. E da lì siamo sempre andati avanti noi. Perché la cosa principale che ci lega, oltre a fare il musica, è anche un amicizio. Lavoriamo molto serenamente, ci supportiamo a vicenda, lavoriamo come una squadra e ci divertiamo. È nato per divertimento e continua per divertimento, diciamo. E alla base di tutto c'è questa passione smisurata per la musica e la comunicazione. Che genere di musica fate? A quali gruppi vi ispirate? Ma il nostro genere è un po' particolare, soprattutto perché siamo in cinque e in cinque ascoltiamo musiche diverse. Io personalmente, quando scrivo e compongo, mi ispiro comunque a Verdena, ai Terapi, ai Metallica, comunque a gruppi un po' vari, anche lì un po' grunge, un po' rock, un po' metal, un po' mischione. E anche il nostro genere quindi è un po' mischione. Si può dire cross-over? Sì, a noi ci piace chiamarlo rock alternativo, perché c'erano sbagliati un giorno invece di alternativo. Sono locandina. Avevamo scritto alternativo, allora derivano. Ed è però una bella definizione. Abbiamo creato un nuovo genere. Diciamo che infatti, come diceva Andrea, la cosa più difficile è agli inizi, perché per esempio il CD che adesso io ti ho dato da ascoltare, che ti ho regalato. Contiene cinque canzoni, che adesso ce ne sono sette finite in realtà, due ancora non sono registrate. Sono il lavoro, diciamo, di scarto di altre trentacinque canzoni circa, che sono state fatte in questo periodo di tempo, in questi anni. Quindi sì, appunto il fatto che venivamo da generi musicali parecchio diversi, è stato un po' traumatico. Tavamo delle idee, però erano parecchie sconfusionate. Una volta trovato l'equilibrio, ora sappiamo bene tutti cosa dobbiamo fare e ci piace a tutti, naturalmente. Più è stato trovare qualcosa che unisca a tutti, perché per esempio c'è chi viene dal metal, io per esempio mi piacciono i grandi cantautori italiani, o comunque il rock più classico, c'è chi ascolta un altro tipo di rock ancora, magari più contemporaneo, diciamo. In mezzo a tutto questo purpurì siamo venuti fuori noi, però con un'identità ben precisa, credo, adesso, finalmente. Quali temi trattate maggiormente nelle vostre canzoni e perché? Il tema principale che ci sta a cuore è la contemporaneità, quello che ci sta intorno, diciamo, questo sorta di disagio esistenziale che respiriamo, che sentiamo fra i nostri pari età e non solo. Quindi molte volte andiamo per l'ecigenza di dire ragazzi, attenzione, svegliamoci un attimo, che qua bisogna fare qualcosa prima che sia tardi. Non ha nulla a che fare con la politica, il nostro messaggio, nessun tipo di moda. È semplicemente un gruppo di ragazzi che guardano qualcosa che non va e cercano di dirlo in musica. Molte altre volte invece i testi sono molto anche personali, introspettivi. Ci teniamo molto al testo e quindi questo per noi è importante. La vostra musica è tutelata da C.I.? No, ancora no. È una cosa che nel breve e medio periodo dovremmo fare, ma ancora no. Seppur non consideriamo una cosa giusta, pagare per la propria libertà di espressione e di comunicazione. Noi la C.I. la paghiamo quando sogniamo nei locali, la paga il locale e questo è un conto. Noi scriviamo delle cover, noi scriviamo delle cover che vengono pagate dalla C.I.A. Quindi comunque quando noi ci approcciamo a musica nel vivo la C.I.A. viene pagata. Noi non siamo iscritti ancora alla C.I.A. come autori. Ci siamo portati avanti. Parte che è una cosa difficilissima. A meno che proprio non sia un artista affermato, che sa scrivere bene la musica alla perfezione, non è proprio una cosa che riesci a fare facilmente. E già questo costa, secondo me, con la possibilità di diffondere ai più, o anche a chi lo vuole fare per passione, ma tutelandosi, perché magari gli riesce qualcosa di geniale, ha la propria voglia di esprimere. Ed è anche gostoso. E non sempre i ritorni della C.I.A. sono come dovrebbero essere. Mai. Questo viene detto da chi ha la C.I.A. da anni. Comunque quando fai musica inizi anche a conoscere altre persone che fanno musica e quindi diciamo che questo è ancora uno... Non so, sicuramente lo faremo, perché va fatto. Però non è che siamo molto d'accordo con questo per tutta una serie di motivi, tra cui credo che si dovrebbe pagare la libertà di pensiero, di comunicare. Comunque la musica è principalmente comunicazione. Ma in un paese come l'Italia la libertà di comunicare di fatto non c'è, quindi è uguale per quello che riguarda nell'ambito musica. Vi ringraziamo, abbiamo appena intervistato i ragazzi degli Ironics Circus di Ponte Ronca e spero che queste ragazze abbiano le carni in regola per fare strada. Grazie. E spero di non avervela tirato. Grazie a voi. E questi erano gli Ironics Circus, gruppo musicale giovanile di Ponte Ronca. In sottofondo avete potuto sentire dei loro pezzi e se vi sono piaciuti cercateli su Facebook e su MySpace. Un saluto da Francesca, Cristian, Annalisa e Massimo. Grazie a tutti.